Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro incontro, questo è un incontro particolare perché sosteniamo, appoggiamo la nuova associazione, il nuovo gruppo di professori digitali di cui facciamo parte anche noi, che è un gruppo che ha come idea, come obiettivo, poi lo ascolteremo poi dalle loro parole, ma ha l'obiettivo fondamentale di sostenere la scuola nel suo percorso di innovazione. Noi sappiamo che in questi giorni, in questi mesi, vuol dire che abbiamo vissuto con tanta fatica e l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, si è sperimentato in maniera estensiva l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambito scolastico. Tanti errori, tanti problemi, cose belle, cose giuste, ma alla fine il punto fondamentale che è emerso è che anche questo è uno strumento e come tutti gli strumenti ha bisogno di competenze, nuove competenze, di innovazione, di attività ulteriore, di tutto quello che serve per far sì che un qualcosa che nasce per aiutarti nel tuo percorso ti aiuti davvero e non ti sia di ostacolo. Per far questo è necessaria appunto competenza. Nasce così professore digitale e noi di Sare Scuola Viaggi, quando ci hanno proposto il progetto, l'abbiamo sostenuto immediatamente con veramente con grande entusiasmo, perché è un bel progetto, è un progetto che nasce da un manifesto, fra poco lo vedremo dalla bocca proprio dei fondatori, anche noi siamo, io sono uno dei fondatori, ma di fatto sono un fondatore sostenitore, entusiasta diciamo, che spingo dove mi dicono di spingere, tiro dove mi dicono di tirare, perché chi guida sono le persone che vedremo fra poco. Prima di affrontare i temi vi do solo qualche notizia tecnica che è questa. Nel momento in cui vogliate, penso che sia il caso, avere l'attestato di partecipazione verrà poi postato nel campo dei commenti un link nel quale potete inserire i nomi dei partecipanti. In questo modo tutti i partecipanti, chi lo vuole, chi lo desiderasse, riceveranno un attestato, ecco si arriva professoressa Lopalco, fra poco lo inviano, lo sta preparando la regia, fra poco andrà, eccolo qua, è arrivato. Per chi non lo sapesse, chi non lo dovesse sapere, se fosse unito alle nostre dirette oggi per la prima volta, il link che trovate nei commenti serve per poter segnare la propria presenza e grazie all'accordo che abbiamo con ANSI, l'associazione riconosciuta degli insegnanti italiani, potrà ottenere un attestato valido per la formazione permanente di istituto, quindi quella che dovete fare, ed è di un'ora, lo riceverete nei giorni prossimi sulla mail che inserite, dovete inserire anche il codice meccanografico della scuola a cui appartenete, verrà ovviamente registrato nel registro dell'associazione in modo che il vostro attestato abbia valore per quanto riguarda la formazione di istituto. È capitato, ma non stasera, che ci fosse anche, non credo stasera, insomma ci fossero anche studenti per l'altrananza scuola lavoro, questa sera è riservata ai docenti, quindi questa sera l'unico attestato che verrà dato è quello per i docenti che trovate nei commenti. Se ci sono degli studenti all'ascolto, ma non credo, ci lo facciano sapere perché è così, sappiamo che non dobbiamo dire certe cose, no scherza, però è bene che lo sappiamo. Ad ogni modo l'attestato che avete lì serve per i docenti. Bene, allora adesso vado a prenderli, ecco qua, i dati vostri, sto terminando l'operazione, poi ci sono, eccolo qua. Benissimo, in questa diretta noi parleremo di alcuni strumenti, alcune opportunità e parleremo prima di tutto del manifesto che serve a, del manifesto che fa da contorno, che ha creato questo evento, il manifesto che ha dato la spinta per poter fare questo evento, le ragioni di questo incontro sono quelle che dicevo in apertura, è il primo di una serie di incontri con cadenza mensile che verranno organizzati da professore digitale che hanno l'obiettivo di dare ogni volta un singolo strumento a chi partecipa, ma l'obiettivo ancora più importante e lo ascolteremo poi dalla viva voce di Matteo che ci racconterà il manifesto, hanno proprio lo scopo di creare un'onda positiva all'interno della scuola per far sì che ci sia un cambiamento nell'uso degli strumenti, ci sia un miglioramento nell'uso degli strumenti, ci sia una sperimentazione condivisa, cioè chi fa parte di questo movimento che si chiama professore digitale e che vuole cambiare la scuola dalla base può anche sperimentare degli strumenti, poi spiegare, guardate io ho fatto questo giochino con gli studenti, è andato benissimo, oppure ho deciso di alternare questa fase e quest'altra fase, io vi racconterò alcune esperienze che abbiamo noi nelle nostre dirette, ma ho provato a sperimentare una fase e un'altra e questa sperimentazione mi ha dato questa serie di risultati positivi nella mia attività, quindi da oggi nasce quella che è una rivoluzione nel campo della scuola nel volere utilizzare gli strumenti e voi che ne fate parte, voi che fate parte della scuola fate parte anche di questa rivoluzione se lo volete, se lo volete e se lo vorrete, ad ogni buon conto come di più c'è che chi partecipa avrà sempre un piccolo strumento ogni volta in più da aggiungere proprio alla propria tastiera da suonare quando si parla con gli studenti durante le lezioni a distanza. Approfondirò questo tema che io vi ho accennato più tardi nel corso di questo nostro incontro. È giunto però ora il momento che vi introduca anche Matteo, Matteo Santoro che è il cofondatore di professore digitale. Ciao Matteo, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua, stavo tessendo le tue lodi giusto appunto che sei di un'applicazione legata alla matematica, sei un esperto di insegnamento digitale della matematica nelle scuole superiori e all'università, quindi abbiamo molte cose da raccontare agli studenti ma io prima di tutto partirei dal manifesto. Sì, 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 intanto grazie della generosa presentazione, un saluto a tutti quanti ci stanno ascoltando. Sì, io mi occupo di matematica, di quei fastidiosi e buffi numeri che saltellano qua e là dalla terza superiore fino al primo università. E saltellano anche prima, però sono più tranquilli. Esatto. Quindi ho a che fare tanto con i ragazzi, come ovviamente tutti noi, noto sempre di più, sempre più una cosa che poi è quella che ha fatto un po' nascere questa iniziativa ed è che il mondo sta cambiando e lo diciamo da vent'anni, però adesso effettivamente forse siamo proprio a un bivio, o meglio, diciamo siamo un po' costretti davanti a questo bivio a prendere una strada. Mentre prima potevamo permetterci di continuare diciamo lo status quo delle cose come erano e in qualche modo ce la potevamo cavare ancora noi a livello educativo e a livello di insegnamento verso i ragazzi, ecco adesso le cose si fanno più difficili. Perché? Intanto perché i ritmi si stanno alzando tantissimo. Perché l'attenzione dei ragazzi è sempre più preziosa e scivola via molto spesso con tutto quel modo diciamo tradizionale che la scuola ha sempre avuto verso l'insegnamento e quindi è richiesto proprio da parte di chi si occupa di insegnare e in qualche modo di preparare i ragazzi alla cultura c'è bisogno che succeda qualcosa. I ragazzi tra l'altro lo stanno aspettando e lo chiedono a gran voce a quello che sento io e a quello che vivo io tutti i giorni. Tra l'altro l'industria se vogliamo o meglio alcune industrie hanno sapientemente capito come gestire l'attenzione dei ragazzi. Pensiamo all'industria del cinema che adesso ha fatto uscire le serie tv. Quando i ragazzi guardano le serie tv sono capaci di guardarne 3, 4, 5 puntate di fila senza perdere un minuto di attenzione su quello che vedono e in classe dopo 10 minuti gli sguardi cominciano a vagare nel vuoto. O i videogiochi. I videogiochi tengono incollati i ragazzi allo schermo anche per ore. Ecco quindi c'è una possibilità di coinvolgimento attivo e veramente profondo da parte di questi ragazzi o meglio verso i ragazzi e se riusciamo a creare un modo nuovo di insegnare che utilizzi questi nuovi strumenti ecco che allora il rapporto con i ragazzi che costruiamo e soprattutto il rapporto che i ragazzi avranno con l'imparare probabilmente si trasformerà. Io avrei voluto pubblicare un contributo video però dalla regia mi hanno giustamente segnalato che purtroppo a causa di copyright non è possibile farlo. Ve lo racconto a voce. Sicuramente ci ricordiamo tutti o quasi del meraviglioso film L'attimo fuggente e quel professore è un po' rimasto secondo me nei ricordi di tutti. Io ero molto piccolo quando uscito era l'89 però il professor Keaton penso che sia il professore che tutti gli adolescenti in qualche modo sognerebbero di incontrare almeno una volta nella vita e i messaggi di quel film sono tanti ma uno soprattutto è quello che mi ha sempre colpito che è quello del coinvolgimento. Cioè i ragazzi erano immersi in un contesto che quel professore è riuscito a creare. Ecco adesso e adesso parlo del 2020 abbiamo una serie di strumenti che ci possono consentire di creare contesti interattivi interessanti stimolanti dentro i quali i ragazzi hanno la possibilità di immergersi di starci volentieri e di assorbire quello che il contesto è in grado di dare loro. Chiaramente i creatori di questi contesti siamo noi e questa è la sfida grande perché quando si parla secondo me di professore digitale o di digitalizzazione spesso purtroppo si confonde questo processo come il fare le stesse cose in maniera elettronica, passatemi il termine. Per cui prima usavamo gessetto, lavagna e cancellino, adesso abbiamo il pennino con l'iPad e Skype. Sì, ok, quello è un rinnovamento degli strumenti, però la mentalità digitale o la mentalità se vogliamo 3.0, quindi quella nuova, quella di adesso, è un'altra cosa. Sicuramente useremo degli strumenti digitali perché ci offrono opportunità enormi, ma quelli sono solo strumenti, non è assolutamente l'obiettivo. Diventare bravi nell'usare la tecnologia è un di cui. Quello che invece possiamo fare con questa tecnologia è enorme e il professore digitale è un po' un'iniziativa rivolta a questo, cioè a cercare quali sono le esperienze e gli strumenti che consentono, che ci consentono di trasformare il mondo dell'istruzione, nel mondo dell'educazione, l'esperienza dell'imparare che i ragazzi fanno e di cui i ragazzi secondo me hanno sempre più bisogno, perché gli manca. Gli mancano proprio dei contesti dove loro possono godere e divertire mentre imparano. I tempi cambiano, adesso ci sono cose nuove, vanno imparate, questo è sicuramente una fatica che ci tocca. Oltre a quello però dobbiamo proprio raggiungere un nuovo modello di trasmissione dei contenuti. Per esempio, mi piace fare questo esempio, faccio un esempio pratico per vedere se riesco a farmi capire in maniera più efficace e per trasmettere proprio quello che intendo. Una lezione che tipicamente dura 45-50 minuti. Pensate un po', prendiamo per esempio una lezione di matematica, ma di italiano, di qualsiasi altra materia che cominci in questo modo. Magari una chiacchierata del professore introduttiva di 3, 4, 5 minuti. Poi la proiezione di un video. Magari di un video di un altro professore che è molto bravo in qualcosa e che riesce a esprimere in 10 minuti dei concetti in maniera divertente. Dopodiché, finiti questi 10 minuti possiamo far fare un questionario ai ragazzi. Dopodiché altri 10 minuti per provare a discuterlo assieme e vedere cosa è emerso da quello. E poi proiettare un altro video verso la fine della lezione con delle riflessioni, magari di un altro professore o di un'altra persona competente su quell'argomento che completi il percorso fatto durante quell'ora. Ecco, in questo modo creeremmo un coinvolgimento strepitoso. Creeremmo una possibilità per i ragazzi di immergersi in qualcosa e diventare parti attive. Quindi, in qualche modo, il professore digitale è un po' come se fosse una cabina di regia che organizza un contesto efficace e potente per i ragazzi affinché possano vivere l'esperienza dell'imparare. Ecco, il professore digitale nasce così, nasce con questi iniziati, con questa propria intenzione. E quello che cerca professore digitale in questa nascita sono professori che hanno voglia di sperimentare. Ci mettiamo noi in prima persona, che lo facciamo tutti i giorni, noi con i nostri strumenti, con le nostre competenze e cerchiamo pionieri per condividere tutte queste prove, se vogliamo, sul campo, per poter definire veramente delle best practice che ci aiutino ad avere a che fare con i ragazzi in maniera completamente nuova. Grazie, Davide. Davide, sì. Davide, il prossimo. Grazie, Matteo, della tua presentazione. Io direi che abbiamo iniziato un percorso, perché la spiegazione del manifesto ovviamente ci dice la strada da percorrere, ma la strada poi è lunga da fare insieme, quindi penso che tu l'abbia spiegato in maniera molto chiara e molto evidente. Anzi, faccio una cosa, perché non l'ho fatto, ma mando nella, eccolo qua, per chi non l'avesse ricevuto, vi mando la pagina del sito, poi c'è anche la pagina Facebook, vedo qualcuno su Facebook, quindi lo trovate lì, ma intanto la pagina del sito professoredigitale.it, eccolo qua, lo sono scritto bene, sì, ve l'ho messa nei commenti, così avete la pagina anche internet nella quale andare a chiedere informazioni, scrivervi, mandare mail, non so, quello vedete voi, come preferite, e trovate tutto quanto. Quella è la pagina del nostro gruppo. Bene, intanto grazie Matteo, poi ci rivediamo per le domande, a tutti coloro i quali fossero in ascolto ora, vi avviso che se avete domande, interventi, contestazioni, a me piace, io lo dico sempre, perché nessuno fa mai, se non vuole contestare, dire no, secondo me è meglio fare in maniera diversa, no, ci vuole il professore analogico, basta che il professore è digitale, insomma, come vi pare a voi, intervenite, perché poi è bello anche discutere e confrontarsi. Ora, però, è giunto il momento in cui io vi introdurrò un altro dei fondatori, cofondatori di professore digitale, che è Davide Rampoldi, eccolo qua, che oltre ad essere, ciao Davide, benvenuto. Ciao Samuele. Diciamo che lui è soprattutto un formatore ed è molto esperto, questo qui è una cosa, ragazzi, che sono convinto che serve a tutti, è esperto di creazione di corsi online, ok? Quindi le tecniche che si usavano fino a prima del lockdown per creare dei corsi autoconclusivi o in serie che insegnassero determinate strumenti, cose, opere, ragioni, hanno delle tecniche molto precise che Davide appunto padroneggia e ha deciso di mettere a servizio del progetto perché poi alla fine, utilizzando la DAD, che è, ma poi io la mia parte la farò dopo, che è uno strumento a servizio della didattica. È chiaro che adesso è tutta la didattica perché siamo costretti a fare così, ma è solo uno strumento a servizio di essa e però sono competenze fondamentali perché può essere un'aggiunta in più a quella che sarà a breve la didattica, quando torneremo a viaggiare, conoscerci, incontrarci, quando potremo di nuovo essere liberi. Sono strumenti che possono integrare quella che è la vostra didattica. Quindi, ripeto, domande eccetera, ma adesso io voglio lasciare la parola a Davide perché ci racconti un po' qual è, diciamo, lo strumento di oggi, lui ogni mese, ogni tanto, ogni volta che lavorerà, condividerà degli strumenti di utilizzo, quindi ci racconterà un po' oggi. Davide, oggi cosa ci racconti? Ah, oggi ci sono un paio di pillole interessanti. La prima è proprio quella collegata al mondo dei sondaggi. Oh, fantastico. Allora ti lascio la strada, vai. Grazie, grazie Samuele. Parlavo e buongiorno a tutti, buongiorno, buonasera ormai. Il tema interessante di oggi è quello collegato ai sondaggi. Sondaggi perché da ritenere come fondamentali nell'ottica di un professore digitale? Ve lo dico facendo un piccolo passaggio indietro e ritorno alla mia esperienza di creatore di corsi su internet. Io, tra l'altro, fino a sei mesi fa lavoravo come responsabile di produzione dei videocorsi a corsi.it, che è un po' potremmo definirla all'università dei videocorsi. E quindi vedevo ogni giorno decine di aspiranti autori, tra cui anche molti professori delle superiori, qualche professore universitario, qualcuno delle medie, che andava a proporre il proprio videocorso. E questo, secondo me, era una cosa fantastica, perché comunque, al di là di quello che possa essere l'aspetto commerciale da parte del mercato, quello che vedevamo noi a corsi.it era proprio l'interesse, il profondo interesse da parte del pubblico, dei docenti, dei professori, a manifestare, a cercare di far passare la propria passione per l'insegnamento e per l'aiutare ai ragazzi. Allora ne approfitto, già che siamo in diretta con voi, per chiedervi se, per caso, tra di voi c'è qualcuno che ha già realizzato un videocorso. Un videocorso non da proporre internamente ai ragazzi, ma da mettere proprio su internet. Quindi, se volete scriverlo nella chat, nei commenti di YouTube, di Facebook, almeno capiamo un attimo se anche voi magari eravate tra quelle persone che hanno mandato il proprio curriculum o la propria proposta, o magari lo vogliono fare in futuro. Ecco, che cosa succede però? Succede che, oggettivamente, fino a due anni fa, tre anni fa, prima che arrivasse, come ha accennato prima, sia Samuele che Matteo, prima che arrivasse l'epopea di Netflix e soprattutto che YouTube iniziasse a spopolare proprio come meccanismo di apprendimento, effettivamente, devo dire che guardandolo sia da creatore che da fruitore, la qualità del prodotto finale, al di là del contenuto. Io tendo sempre a dividere le due cose. Da una parte c'è la forma e dall'altra parte c'era il contenuto. Il contenuto spesso era un contenuto buono, un contenuto più che sufficiente. Il problema è adesso che, essendo cambiati i tempi, questa cosa si va a collegare ad una forma che è molto diversa, è molto cambiata. E quindi le persone che sono abituate a vedere Netflix, a vedere il me contro te, che possono essere, magari sicuramente voi avrete dei ragazzi o i figli degli altri studenti, i figli, i fratelli più piccoli che conoscono, no? Io ho due bambine piccole che le guardano, insomma. Il contenuto è molto poco, però la forma si è alzata tantissimo dal punto di vista qualitativo. E ci sono gli effetti speciali e ci sono gli sottofondi con l'audio, ogni tanto ci sono dei tagli fatti quasi in stile cinematografico. Per cui il problema di fondo che abbiamo riscontrato anche noi a suo tempo, corsi.it, che vedo io tutti i giorni lavorando con persone che vogliono creare i propri videocorsi, professionisti, insomma, è proprio che da una parte dobbiamo lavorare comunque sul contenuto, ma soprattutto la forma diventa importante, perché le persone hanno ormai una sticella così alta dal punto di vista della fruizione, che se io faccio un corso che magari cinque anni andava bene, cinque anni fa andava bene con le slide, diventa di una noia mortale. E quindi purtroppo, come professori digitali, come diciamo creatori digitali di contenuti, dobbiamo trovare da una parte delle nuove modalità, dei nuovi strumenti per aumentare la qualità. Dall'altra parte dobbiamo farlo anche in maniera efficiente, efficace, perché è inutile dire che queste persone che creano prodotti per Netflix oppure ne creano per YouTube, di fatto arrivati a un certo punto fanno solo questo come lavoro. Quindi per magari creare un video di dieci minuti ci impiegano una giornata. Quindi io capisco benissimo, ma capisco anche molto voi, se avete questa passione, non potete sicuramente, perché avete otto ore a scuola da dedicare, poi ci sono i compiti da sistemare, avete anche voi sicuramente i figli da seguire, quindi non possiamo trasformarci in professionisti della creazione digitale di contenuti e quant'altro. Però lo scopo è quello di arrivare a dire, a trovare un bel trade-off, un giusto equilibrio tra il giusto grado e un efficace grado di interazione, di stimolo, come diceva anche prima Matteo, con i nostri ragazzi e dall'altra parte riuscire a farlo in un tempo accettabile, perché altrimenti purtroppo il gioco non vale più la candela. Ognuno di noi, al di là della scuola e della passione che può avere per l'insegnamento, ha il diritto ad avere anche un'altra vita, per me ne lobby, però fino a un certo punto. Quindi anche tutto questo discorso nostro di professione digitale arriva e va verso questa direzione, cioè quello di essere un grande contenitore dove i pionieri, a noi piace chiamarvi pionieri, chiamarci e chiamare voi pionieri, è proprio quello di condividere, di condividere le informazioni, condividere le sfide, condividere quello che abbiamo trovato, perché soprattutto in una fase ancora embrionale, mi viene da dire, come quella di questo momento, in realtà la condivisione è quella che ci rende più forti, è quella che ci permette poi di portare dietro anche altri colleghi che magari non sono proprio digitalmente così ispirati, mettiamola così, come le persone che sono collegate all'interno di questa sala. E a proposito di questo, tornando al discorso del sondaggio, sono due momenti importanti e due le ragioni importanti per il sondaggio. La prima perché permette di capire esattamente quello che c'è al di là della sala, dal punto di vista, diciamo, più banale che è proprio quello delle conoscenze. E quindi io, a totale trasparenza, vi vado a condividere lo schermo e vi mostro proprio quello che voi avete risposto al sondaggio che avete trovato alla fine della... Datemi un cenno se vedete bene o se magari è troppo piccolo e ho bisogno di zoomare la schermata. Questo è proprio il sondaggio a cui hanno risposto anzi 58 persone, 33 sono quelle che hanno completato interamente il sondaggio. E quello che noi volevamo capire era, una volta mandati gli inviti a partecipare a questo webinar, innanzitutto quale fosse il livello non globale della partecipazione. Perché quello che spesso succede, e in molti sondaggi, è che le persone che rispondono al sondaggio vanno a creare questa specie di bias, quindi di alterazione, nei confronti delle risposte. Quindi noi sapevamo già, in qualche modo, che le persone che come voi si sono presentate a questo webinar, in realtà erano anche le persone più predisposte a diventare i pionieri digitali, i pionieri dei professori digitali. Se avessimo obbligato, passatemi il termine, a compilare questo sondaggio a tutti i vostri colleghi... Aspetta, ho aggiunto il sondaggio perché non si vedeva, non era condiviso. Non era condiviso? No, adesso si vede. Sì, sì. Adesso si vede. Grazie, grazie, Samuele, dalla regia. Quindi, se l'avessimo fatto questa condivisione del sondaggio con tutti gli altri colleghi, con tutti gli altri professori italiani, probabilmente avremmo avuto delle risposte molto differenti. Ma è normale, è un po' come fare il sondaggio a dei ragazzi universitari e a farlo tutta la popolazione. È chiaro che le risposte vengono un po' alterate. Però ci tenevamo a capire quali fossero, per esempio, gli strumenti, le sfide che già i pionieri hanno. Ok? Quindi, per esempio, abbiamo scoperto che dal punto di vista della scuola italiana, questa è un'informazione che a noi, per esempio, mancava, molti di voi, direi quasi la totalità, utilizzano Google Meet, anziché il buon vecchio Zoom che ha fatto furore all'inizio della quarantena. Come usate la piattaforma? Diciamo che molti di voi la conoscono in maniera più che sufficiente e la metà si trova veramente bene. E questo ci dava di nuovo la conferma che siete veramente un'eccellenza dei professori digitali italiani. E poi una cosa interessante è stata questa domanda proprio sull'uso della tavoletta grafica, che c'è un po' spiazzato, perché devo dire che il 27, quindi una persona su quattro, in realtà, apparentemente ci ha detto che non conosce la tavoletta grafica, che è poi uno strumento che vi mostrerò molto rapidamente tra poco. Altri ci hanno detto che non la ritengono utile, altri che la utilizzano. E questo è un esperimento interessante, perché effettivamente ci dà la possibilità di capire che c'è del margine in tutto questo. Poi c'è una parte collegata alla condivisione, quindi molti di voi condividono tutto tramite WhatsApp, oppure altri sistemi, che non abbiamo approfondito, però è un buon terzo di persone. Quindi oltre a WhatsApp ci piacerebbe capire, approfondire. Anzi, magari, se avete modo di scriverlo adesso nella chat, tra i commenti, diteci che cosa utilizzate per interagire con gli studenti al di fuori della lezione, proprio come strumento. Poi ovviamente rimane il discorso della Google Classroom. I contenuti li condividete, perché giustamente siete delle persone eccellenti da questo punto di vista, siete i pionieri, quindi siete bravi a crearli. Utilizzate tranquillamente Word, anche i vari discorsi di PowerPoint. Alcuni non utilizzano le mappe mentali, ma molti li utilizzano con discreta facilità. Anche i video non avete problemi ad utilizzarli. E allora la parte più interessante, forse, è quella di andare a capire, ma cosa di cui ci parlerà meglio Linda, tra poco, insomma, quali sono gli aspetti non tanto tecnici, perché dall'impressione che ne abbiamo avuto, siete discretamente smanettoni dal punto di vista tecnico. C'è sempre margine di miglioramento, anche perché gli strumenti che escono sono sempre più frequenti, però diciamo che stiamo lavorando con un buon prodotto. Siete dei federer, in qualche modo, dei professori italiani. Ecco, tanti ci avete detto che, oggettivamente, l'organizzazione delle verifiche e delle interrogazioni, quindi oltre alla metà, è un bel macello. E anche il fatto di dover strutturare la lezione in maniera diversa, che ci sono dei problemi di interazione con il gruppo classe. E soprattutto che l'attenzione, come ha accennato Matteo, come dirà anche Linda e successivamente, diventa un bel problema. E tutti, o comunque molti di voi, si lamentano del fatto che manca l'interazione diretta. Questo è evidente per certi versi. E soprattutto che si abbia una minore efficacia comunicativa. Poi ci sono altre cose, se vi farà piacere, possiamo anche condividere questi risultati attraverso la mail, la stessa mail con la quale vi siete iscritti. Allora, io interrompo un secondo la condivisione, e torno in... Se qua non mi sono perso, vediamo un attimo. Ci sono, ci sono. Ok. Quindi ci sono tanti strumenti per creare questi tipi di sondaggi. E il secondo motivo per cui un sondaggio è utile è che la persona dall'altra parte, Samuele, si rende partecipe nella creazione di un contenuto. Cioè, non è semplicemente il sondaggio Istat che uno fa, perché dici tanto più o meno sono obbligato a rispondere. Invece no. Cioè, se voi fate dei sondaggi al vostro pubblico, e il vostro pubblico sono in realtà i vostri studenti, potrebbero essere anche i genitori in qualche modo, è perché c'è un interesse sincero nel capire il come io posso andare a strutturare meglio la mia presentazione, la mia comunicazione, gli argomenti e quant'altro, per ottenere una maggiore efficacia. E quindi io che sono dall'altra parte, ricevo questo tipo di richiesta, in realtà ho tutto l'interesse nel cercare di dare la risposta più approfondita possibile, migliore possibile, perché vedo che questa cosa in realtà viene creata a misura. È quasi un vestito sartoriale che viene fatto, no? Da parte del professore digitale. E tra l'altro alcuni sondaggi possono essere simili a quelli che abbiamo visto oggi. Altri possono essere invece messi più sotto forma di quiz, quindi una cosa un po' più divertente che dal punto di vista del coinvolgimento delle persone a scuola, dei ragazzi a scuola, ma soprattutto anche in maniera di didattica, a distanza, è molto molto importante. Perché? Perché ragazzi giustamente sono abituati a giocare, diceva prima Matteo, sono abituati ai giochini, sono abituati a YouTube, e quindi riuscire a portare la parte buona della gamification, quindi dei videogiochi, all'interno della scuola, con grano salis, direbbe qualcuno, senza esagerazione, però aiuta a superare oggettivamente quello che è uno scoglio importante dal punto di vista della didattica e della tecnologia. Per esempio... Ti fermo il secondo, fermo lì. Oggi dobbiamo presentare un po' di cose, quindi non abbiamo tempo, ma sicuramente, secondo me, il tema, credo che anche in base ai commenti che abbiamo visto, è un tema interessante. Magari dedicheremo un'intera diretta al tema dei sondaggi, faremo una diretta specifica dei sondaggi, nel futuro, e credo che possa essere un tema assolutamente interessante. Abbiamo quattro commenti in cui abbiamo io sia tavoletta grafica che tablet con pennino e preferisco il tablet con pennino. Interagisco con email e piattaforma classe viva, classe viva, cioè classe viva, ma è classe viva. Sì, sì. Per contattare gli studenti al di fuori delle azioni utilizzo WhatsApp. Abbiamo un commento interessante che è che non uso WhatsApp per motivi di privacy. Sì, sì. Che sono, ovviamente, sono entrambi veri, nel senso che ci sono degli strumenti per provare ad abbattere i problemi privacy, ma il tema della privacy è da affrontare e magari potremmo dedicare anche un incontro con un esperto di privacy, il nostro consulente, per dire banalmente, e raccontare, spieghiamo un po' la privacy. Proviamo ad approfondire i temi della privacy in ambito scolastico che credo che sia un tema a volte dimenticato, ma, come ci ricorda Cinzia, di assoluta attualità, in verità. Quindi, bene, grazie Davide, intanto, di questo primo approccio al tema dei sondaggi. Ci torneremo. Allora, vi rammento che potete fare domande, interventi, ribadisco, contestate, se qualcosa non vi va bene, qualcosa c'è, ma scherzo, no, se va tutto bene non contestate che siamo più felici, ma mi piace il dibattito, mi piace l'incontro e a proposito di incontro, ora incontriamo l'altra, l'ultima, sì, direi l'ultima dei fondatori, intendo, l'ultima dei cofondatori di professore digitale, che è la dottoressa Linda Bori, Linda Bori che è, ecco qui, ciao Linda. Ciao, buona tera a tutti. Benvenuta. Allora, Linda è psicologa orientatrice, è esperta di autostima personale scolastica, di motivazione, ansia e apatia, in bambini e ragazzi, quindi direi che è un tema che sicuramente conoscete tutti e credo che sia molto importante. Abbiamo anche degli studenti, vi dico, tra i nostri, tra i nostri osservatori, tra i nostri ospiti, quindi è molto importante. Anche voi vedete come funziona dall'altra parte, vedete che i vostri docenti si informano, lavorano e fanno degli incontri come questo. Per voi gli strumenti che vedete oggi, parlo direttamente gli studenti presenti in questo momento, per voi gli strumenti che vedete sono strumenti utili nel vostro futuro professionale, se vorrete, o anche nel vostro presente, cioè le vostre attività, ciò che fate, potete usare anche questi strumenti, sono strumenti didattici e quindi sono strumenti aperti a tutti, sia a chi voglia insegnare, sia a chi voglia imparare, sia a chi voglia gestire con strumenti di classe copovolta, eccetera, eccetera, queste cose. Però, io non dico oltre perché voglio lasciare a Linda il compito di presentare le sue competenze principali e soprattutto i temi di oggi che sono assolutamente molto interessanti. Linda, raccontaci un po'. Grazie, Samuele. Sì, dunque, io mi occupo anche da diversi anni all'interno di diversi istituti scolastici, sia scuole medie che scuole superiori, anche di formazione e collaborazione con gli insegnanti. Ed è un tema che mi è molto caro e mi piace molto. in questa giornata, in questo incontro di oggi, volevo presentarvi quello che sarebbe il percorso che mi piacerebbe fare assieme, gli strumenti che mi piacerebbe potervi offrire, ma in realtà, come hanno già detto Samuele, Davide e Matteo, costruire con voi. la didattica a distanza ha cambiato radicalmente non solo il modo di far lezione, ma anche la modalità di interazione e gestione del gruppo classe. Quindi, oltre agli strumenti dei quali abbiamo accennato negli incontri precedenti, quello che veramente ha imparato a livello di interazione è la modalità rispetto alla didattica in presenza. Quindi, l'obiettivo di questo percorso è quello di infornire agli insegnanti, ovvero voi, nuovi spunti, tecniche e strategie per rendere la didattica a distanza una risorsa per quello che è il vostro modo di fare didattica. Le differenze principali tra la didattica diciamo tradizionale in presenza e quella online in realtà li avete già vissuti e li state vivendo sulla vostra pelle, però li voglio vedere brevemente perché è su questo ci concentriamo insomma in questo percorso. Nella didattica classica in presenza abbiamo una comunicazione diretta e con la nostra presenza fisica abbiamo un potere di coinvolgere con il nostro carisma, con la mera presenza fisica i nostri studenti in maniera diversa. Una presenza tramite il video nella comunicazione con il video è completamente diversa, quindi cambiano cambia proprio la struttura di base. Nella didattica classica tradizionale in presenza abbiamo strumenti fisici da la lavagna alla lim quando presente o banalmente carta e matita come aveva detto prima Matteo, mentre nella didattica a distanza dobbiamo utilizzare principalmente gli strumenti digitali. Una componente, una differenza fondamentale per l'esperienza che ho avuto parlando con gli insegnanti ecco le più quelle che hanno portato maggiore disagio è che nella didattica in presenza si ha una visione completa della classe quindi un controllo sia visivo che cognitivo nella didattica a distanza non solo si ha una visione segmentata della classe ma non abbiamo proprio una visione della classe abbiamo una visione dei singoli individui, dei singoli studenti in questo caso che compongono che sono i membri di una classe quindi perdiamo proprio la visione d'insieme questo comporta un controllo maggiore della classe in presenza dalla cattedra abbiamo una visione globale di quello che succede e una possibilità di intervento diversa mentre una difficoltà nella didattica a distanza è la percezione di minor controllo ovviamente non possiamo entrare nelle case degli studenti non possiamo essere effettivamente sicuri di quanto ci stanno seguendo di che cosa stanno facendo mentre noi svolgiamo la nostra lezione questo ovviamente può essere assunto con un'interazione diretta nel caso della didattica in presenza e un'interazione indiretta comporta una serie di caratteristiche e difficoltà nella didattica a distanza proprio alla luce di questo di professore digitale di quella che è la sua mission nel suo manifesto per noi è importante fare una differenza tra la teledidattica che è la teledidattica si appoggia su un modello pedagogico di origini medievali la classica il classico metodo di insegnamento gerarchico dove il didatta cioè in questo caso l'insegnante detiene tutta la conoscenza e la trasmette agli studenti quindi l'obiettivo è la trasmissione di conoscenza dall'alto verso il basso i lati positivi della teledidattica sono che un insegnante con le proprie competenze può registrare la lezione può raggiungere migliaia di persone oggi poi sempre più che mai e queste lezioni possono essere usufruibili in tempi e orari diversi più e più volte ma quello su cui noi ci vogliamo concentrare con il nostro percorso non è una modalità didattica di teledidattica ma di online learning in realtà si appoggia su modelli didattici ancora più antichi che vengono dall'Oriente dove l'apprendimento sincrono cioè quello simultaneo e asincrono è centrato su piccoli gruppi di allievi quindi mentre nella teledidattica abbiamo un didatta che trasmette le conoscenze all'interno di questa visione la conoscenza è circolare l'apprendimento è cooperativo e creativo i lati positivi sono che promuove il problem solving il pensiero creativo e divergente che vede gli studenti protagonisti del proprio apprendimento mentre l'insegnante ha l'importantissimo ruolo di mediatore e di facilitatore dell'apprendimento e avviene uno scambio tra pari vi faccio una breve carrellata degli argomenti che mi piacerebbe trattare di base con voi ovviamente questo è stato detto uno spazio collaborativo quindi possono essere aggiunti tolti assolutamente a necessità la strutturazione di una lezione da didattica a distanza come è stato detto anche già da Matteo una lezione a distanza comporta delle caratteristiche differenti rispetto alla lezione in presenza la curva dell'attenzione paradossalmente nella lezione online si abbassa più facilmente quindi ad esempio sono diverse le strategie per strutturare le pause che devono essere più frequenti ma più brevi ed è importante variare proprio per attivare l'attenzione utilizzare diversi strumenti multimediali tecniche di comunicazione perché come abbiamo detto prima la comunicazione è indiretta ed è diverso il nostro modo di parlare in video quindi parleremo di episodica cioè il tono della voce la modalità del suono per fare in modo che una lezione non sia monotona quindi monotona con un tono unico la strutturazione di compiti e verifiche mi è stato detto parlando con gli insegnanti che spesso è stato riscontrato difficoltà nel dare compiti a casa e nella correzione servono nuove strategie per correggere i compiti in questa nuova modalità ma anche nella strutturare delle verifiche dei compiti in classe quindi come gestire le interrogazioni come strutturare tutti questi momenti che sono fondamentali nella didattica parleremo di gestione del gruppo classe attenzione e coinvolgimento del gruppo classe che per le differenze che abbiamo detto prima non potendo più contare per questo periodo sulla nostra presenza fisica in classe abbiamo bisogno di nuovi spunti nuovi metodi per tenere aggrappati con noi l'attenzione degli studenti ai quali stiamo trasmettendo le nostre conoscenze tutto questo può essere riassunto in una parola che è cooperative learning che è la diciamo la base teorica l'assunto teorico dal quale verranno prese la maggior parte delle strategie delle risorse degli strumenti che vi verranno forniti il cooperative learning nasce nell'università del Minnesota ad opera dei fratelli David e Robert Johnson negli anni 70 è americano ma si è diffuso abbastanza velocemente e sono state tantissime le ricerche che hanno messo a confronto la classi in realtà di ragazzi di diverse fasce d'età quindi parliamo di elementari medie superiori e anche universitari hanno messo a confronto l'andamento scolastico e con diversi follow up nel tempo in classi in cui è stato sperimentato il cooperative learning rispetto alla didattica tradizionale il cooperative learning comunque costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso è una didattica coinvolgente e interattiva dove gli studenti vengono coinvolti sia a livello individuale ma e allo stesso tempo di gruppo dove l'insegnante ha chiaro l'obiettivo del gruppo classe l'obiettivo individuale e gli studenti hanno modo di imparare da soli ad automonitorare i propri successi per arrivare a un livello standard concordato con la classe le caratteristiche del cooperative learning riconosciute dai maggiori esperti sono che crea un'interdipendenza positiva di obiettivo perché il mio obiettivo di studente diventa anche l'obiettivo del gruppo classe quindi di conseguenza la responsabilità individuale e il lavoro di gruppo sono interconnesse per farvi un esempio il primo esempio che mi viene in mente operativo una lezione in classe o un compito da svolgere durante la lezione potrebbe essere dare una ricerca parliamo di una classe suddivisa in diversi gruppetti sotto gruppi di 4 o 5 studenti il compito è fare una ricerca su un tema di attualità quindi ad ogni studente viene dato un articolo di giornale che deve e dovrà elaborare da solo per poi fornire le informazioni essenziali al proprio gruppo che elaborerà una presentazione insomma alla classe una presentazione multimediale al resto della classe mettendo insieme il lavoro dei singoli questo sviluppa la responsabilità individuale perché il mio apporto diventa importante e indispensabile per il lavoro del gruppo unisce una didattica più coinvolgente perché lo studente attivo non segue solo la lezione ma viene chiamato a partecipare in prima persona con tantissimi strumenti dal sondaggio che è già stato citato da quiz e oltretutto un punto forte del cooperative learning probabilmente tra l'altro ne avrete già sentito parlare apprendimento cooperativo o cooperative learning se qualcuno già lo utilizza o già lo conosce me lo può far sapere si accosta l'apprendimento delle soft skills non serve che in questa sede quanto le capacità trasversali sono fondamentali oggi più che mai e questo tipo di insegnamento queste strategie che vengono utilizzate proprio studiano di pari passo l'apprendimento dei concetti didattici classici insieme a leadership team working decision making e problem solving genera un apprendimento più approfondito e duraturo proprio perché lo studente va a elaborare i contenuti ed è in ultimo ma direi fondamentale visto il tema che stiamo trattando un ottimo strumento da utilizzare con la didattica a distanza si presta benissimo tutte le tecniche le strategie del cooperative learning sono assolutamente adattabili alle caratteristiche della didattica a distanza grazie Linda stiamo andando verso la conclusione il tuo intervento ovviamente è giusto un assaggio di quello che potrai dare la presentazione quello che potrai raccontare come vedete tutti gli intervenuti stiamo parlando di temi di grande attualità e soprattutto con una competenza superiore alla media posso dire grazie Linda non vedo domande però fate pure le domande poi dopo la fine daremo le risposte se necessarie posto che abbiamo ancora non riesco a vedere l'orologio eccolo lì abbiamo dieci minuti quindi nei prossimi dieci minuti grazie Linda intanto per essere stato con noi rimani dietro nei camerini rimani perché alla fine se qualcuno ha bisogno ti richiamiamo dentro allora è giunto il momento di introdurre il nostro ospite che è venuto qui questa sera prima di prima di fare questo vi rammento che avete il link nei commenti per poter richiedere l'attestato fatelo oggi o tacete per sempre perché poi dopo non sarà possibile rilasciare l'attestato a chi non ha dato i dati questa sera perché non possiamo ovviamente certificare la presenza durante questa sera l'attestato è valido per la formazione obbligatoria d'istituto o per la PCTO qualora il vostro istituto lo accetti non riesco ad aprire il link per il modo di certificazione controlliamo se va tutto chiedo alla regia di fare un controllo nel caso poi comunque lo controllano poi lo ripostano nei commenti così potrete fare appunto i vostri segnali bene allora abbiamo ora da introdurre una persona un altro ospite di alto livello è il dottor Francesco Fedele che è un formatore un consulente su aeroprogettazione ed è il mio mondo perché anch'io iniziai molti molti anni fa la mia carriera come progettista europeo era il mio nome eccolo qua ciao Francesco benvenuto buonasera eccoci qua è un appassionato digitale ed è l'ex direttore del centro studio e studio Europa di Toastmaster International e parliamo quindi di public speaking parliamo di leadership parliamo di saper parlare per poter trasmettere contenuti in una modalità autorevole però voglio lasciarti la parola e raccontarci un po' ci senti? eccoci qua grazie Samuele il mio compito in questi dieci minuti è darvi un pochino di suggerimenti su come migliorare il vostro public speaking ovvero l'arte oratoria un'arte ahimè ormai quasi dimenticata ma della quale noi abbiamo chiare riminiscenze se abbiamo fatto qualche studio nella storia della comunicazione cominciamo da suggerimenti sulla parte video la posizione della telecamera o della webcam cercate di metterla leggermente più alta dei vostri occhi e soprattutto ricordatevi di guardarla perché la possibilità di distrarsi è sempre in agguato soprattutto perché tendiamo a spostare lo sguardo sulla finestra dove abbiamo le immagini di quello che stiamo condividendo con gli studenti piuttosto che le immagini delle loro webcam ma se invece riusciamo a guardare la webcam daremo a chi ascolta l'impressione che lo stiamo guardando un po' come faremmo se fossimo effettivamente in classe e guardassimo gli studenti in faccia altra cosa molto importante è avere abbastanza luce io qui penso di averne a sufficienza ma potrei aumentarla ulteriormente è importante che non abbia invece luce da dietro perché questo crea un effetto proprio poco gradevole quindi tanta luce e tanta luce soprattutto da davanti se volete esagerare vendono quei bellissimi cerchi luminosi che potete mettere proprio dove sta la vostra webcam o proprio intorno alla webcam per ottenere un effetto quasi da youtuber professionale vestiamoci come se fossimo in aula e questo per le donne vuol dire anche magari un filo di trucco apparire bene è sempre importante occhio a che cosa abbiamo intorno molti strumenti oggi offrono la possibilità di avere questi virtual background l'importante che quello che abbiamo intorno non distragga chi ci ascolta quindi che sia il più possibile uniforme neutro l'attenzione deve essere tutta su di noi altra ambito importante la struttura con la quale parliamo la struttura deve rispettare alcune semplici regole innanzitutto una struttura basata su tre settori un'apertura un corpo una chiusura e questo sia quando parliamo di una lezione preparata sia quando stiamo improvvisando magari un piccolo discorso un piccolo ambito o un intervento che non è preparato in anticipo la struttura apertura dobbiamo catturare l'attenzione penso che oggi sia stato ripetuto varie volte troviamo qualcosa che attiri l'attenzione dei ragazzi il video come suggerivano già prima una battuta una citazione comunque qualcosa che li svegli e attiri la loro attenzione dopodiché entriamo nel corpo del nostro intervento e lì normalmente avremo due tre concetti principali a ognuno di questi dedicheremo 10-15 minuti per spiegarli o approfondirli e alla fine un riepilogo in cui andiamo a ricapitolare tutto quello che abbiamo trasmesso tutto questo è ovviamente una cosa alla quale probabilmente siete già abituati quando fate lezione in presenza ma quando la facciamo a distanza diventa ancora più importante assicurarci di avere una struttura chiara perché questo rende più facile da parte di chi ci segue sapere a che punto siamo e poi vi è stato accennato da Linda quanto sia importante usare la vostra voce e immagino che in quanto docenti siate già abituati a far questo però voglio attirare la vostra attenzione su alcuni particolari innanzitutto l'uso delle interazioni a e allora diciamo tutte parole o tutti i suoni che potremmo evitare se riusciamo a farlo la nostra comunicazione diventa più precisa diventa migliore varietà vocale suggeriva Linda alzate abbassate la voce avvicinatevi sfruttate anche il campo di ripresa addirittura potete pensare di sfruttare la tecnologia e quindi cambiare inquadratura come sto facendo io adesso se possibile usate un'inquadratura che vi inquadri anche le mani in modo tale da sfruttarle nella vostra comunicazione e se le usate usatele rivolte verso chi vi ascolta con il palmo c'è un qualcosa di ancestrale nelle nostre menti per cui se arrivo con le mani così sono innocente non sono aggressivo se invece le mostro così posso essere pericoloso quindi per qualche ragione aprire le mani funziona molto meglio così come parlare a corpo aperto e non con una posizione chiusa occhio anche a quei movimenti che non controlliamo le dita del naso non sarebbero sicuramente un'aggiunta interessante alla vostra lezione quando potete sorprendete i ragazzi usate una videoclip usate un audioclip l'importante è ogni tanto tirare su quell'attenzione soprattutto nei momenti in cui dovete spiegare un concetto importante lo potete fare con la voce lo potete fare abbassando la voce lo potete fare muovendovi ma lo potete fare anche sfruttando la tecnologia che avete a disposizione bene sono probabilmente cose che in parte fate già se su qualcuna di queste cose fate un po' fatica vi invito a andare a fare esercizio in palestra e la palestra che vi propongo si chiama Toastmasters Toastmasters è un'organizzazione educativa senza scopo di lucro esiste in tutto il mondo in ben 145 paesi ci sono in questo momento 350.000 persone che fanno parte di questa associazione e sono organizzati in club e in Italia ci sono oggi 27 club quindi ne trovate sicuramente uno nella vostra città ma soprattutto in questo periodo sono quasi tutti online sono un posto dove fare esercizio di public speaking e soprattutto ricevere poi dagli altri soci un feedback può essere un ottimo posto dove andare a affinare le nostre capacità di parlare in pubblico e eventualmente toglierci qualche piccolo difetto che possiamo avere ricapitolando fate pratica partecipate a ogni occasione in questo momento online per far pratica di queste tecniche di comunicazione ricordatevi di strutturare i vostri discorsi sia quando sono preparati sia quando sono improvvisati controllate esercitate la vostra voce salite scendete muovetevi usate la gestualità e soprattutto giocate la formazione non deve essere per forza sempre seria sorprendete chi vi ascolta con la vostra voce con le vostre gesti con la struttura di quello che raccontate e sono sicuro che tutto questo renderà le vostre lezioni ancora più interessanti no ma fantastico grazie mille ma è fantastico abbiamo c'è a Rimini io mi voglio scrivere assolutamente ce l'abbiamo a Rimini assolutamente si ed è nato da pochissimo oh bellissimo è stato servito quasi apposta bellissimo io non sapevo dell'esistenza di questa cosa quindi grazie per averci rappresentato anche a me interessa persino a me quindi dopo allora magari quando abbiamo finito nel background mi passi il contatto che mi scrivo subito bellissimo buon entiere grazie Francesco per stati con noi per aver dato questi elementi io chiedo se qualcuno ha ecco se qualcuno ha qualche commento qualche domanda a Messina adesso Francesco scrivimelo nella chat privata se a Messina c'è però dopo vi rispondo bene siamo giunti in maniera velocissima per me il tempo è volato scusate forse perché ero qua alla fine di questo incontro sono già le 6 quindi abbiamo fatto la nostra ora abbiamo sforato i minuti ci prendiamo ancora un minuto c'è a Partanna tanto so dove sono stato a Partanna c'è a Trapani il più vicino non c'è magari se sei di contatta professoressa Antonazzo vede se lo fonda lei a Messina chissà può essere un'occasione ma risposta adesso Francesco che c'è a Partanna e non a Messina ecco tra l'altro stasera c'è un incontro online del club di Partanna magari lo può contattare e così bene allora abbiamo concluso noi ci vedremo chiaramente dopo le dopo le vacanze con i prossimi incontri e ecco continua a non riuscire a aprire il link cioè non mi indirizza al collegamento allora in generale i suoi colleghi lo hanno fatto però facciamo una cosa mandi un'email a scuola sale scuola la scrivo anche nei commenti sale scuola viaggi punto com eccolo qua un'email così dove segnala ero presente eccetera ma non mi riuscivo ad aprire il collegamento così lo inseriscono e così bene allora le date verranno pubblicate subito dopo capodanno ve le invieremo quindi avrete le date per i per i prossimi incontri allora dicevo professore Munio fuori il link a cosa al collegamento dice per l'attestato ok se mando un'email poi dopo ci ecco il link per accedere al modulo se non funziona eccolo qui qualora non funzionasse ci mando un'email ok così facciamo perfetto allora salutiamo Linda Bori ciao Linda grazie per essere stato con noi Davide che abbiamo con noi il nostro ospite di oggi che è stato Francesco che ci ha aperto un mondo almeno a me ha aperto un mondo ma credo anche ad altri non solo grazie mille vi auguro un buon Natale ci vediamo buon Natale felice anno nuovo perché il 2021 arrivi a spazi via questo 2020 che è stato diciamo un po' controverso possiamo dire così diciamo un po' così discutibile dopo un 2020 discutibile andiamo al 2021 grazie mille a tutti per stati con noi ricordate di mettere il vostro nome nel form qualora non ce l'abbiate fatto gli altri incontri vi invieremo mail appena ci sarà insomma l'anno nuovo e se volete anche darci qualche suggerimento per argomenti futuri dateceli stasera abbiamo già entrato un po' di argomenti che affronteremo ma senza dubbio altri argomenti potete mandarceli potete mandarceli all'email di Sala Scuola Viaggi per quanto riguarda gli attestati oppure a infochiocciolaprofessoredigitale parlo così perché lo sto scrivendo è digitale.it infochiocciolaprofessoredigitale.it perfetto eccolo qua e allora guardate è stato gentilissimo Francesco e ci ha dato se qualcuno vuole vedere un incontro di Toastmaster sia il link zoom e la password ve la metto adesso nei commenti così se qualcuno volesse partecipare eccolo qua se qualcuno volesse vedere c'è il zoom e password dell'incontro però noi la finiamo qui davvero grazie a tutti di essertati con noi buona serata ci vediamo a trovare le feste e ancora tanti auguri grazie ciao 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 ciao